Non mi interessa, non mi interessa, non mi interessa. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 E il signor Lorenzo dice che questo è stato politico, perché naturalmente, come avventile del denuncio consiglio portale, l'opposizione dei generali tiene giustamente questa, quello che per primo, per prima del signor Lino, che sono orgoglioso di fare il suo pericolo, quindi io non posso guardare male, perché anche un genetico personale, c'è un discorso politico, che sicuramente non è possibile, ma anche un genetico, che stasera è medico, che è proprio, con il giudizio di Stato, è l'opposizione maggiore dell'aggiunto campista. E noi, proprio per i campisti che abbiamo sempre detto, e che abbiamo riparito le recative, con l'equilibrio di federale di comunità, per questo mezzo è molto molto importante della Carta, visto che qualcuno vuole fare sempre, abbiamo detto, come ho fatto la politica Carta, che ho presentato la nostra posizione, una posizione che non si impegna, non si impegna, e così come abbiamo dimostrato, una posizione che è costruttiva nei confronti dell'organizzazione, che sicuramente non si impegna, sicuramente la città, e che naturalmente contiene, che si impegna, non si impegna, non si impegna, ma sicuramente una posizione diversa, quella dove la mondo è stretta e ce l'ha di ottenere. Questo è un'opinità che è come punto di città, verso la posizione che noi siamo in mente in un'altra posizione. Grazie. 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 chiedono quante grazie all'interno di questa roba e delle conferenze delle persone che ci sono state. C'è stata una carezza sulla questione che praticamente dirige sempre 10% e che non ha smesso la situazione che ha avuto il collega che ha capito il collega che ha capito alla richiesta di proclamazione, quando all'interno della comunità e dell'articolo ci sono 18% che in questo discorso questa informazione è praticamente proprio a seconda. Io mi distacco, prendo la distanza di quello che è, la posizione mia, personale, giusto, però all'interno della comunità e ci sono queste situazioni. Per cui un'interno della comunità, un'interno della comunità, io ne ho un uomo pubblico, il collega che ha capito a me ha capito a me ha capito a 12, 13, 13, sono 24, 3 che non si portiamo a me, e 3 che non ho capito a me, non ho capito. Quindi si è andata a me con la richiesta della proclamazione del consigliere della comunità. Da ci ha detto, non ho capito, che è un momento in cui all'interno della comunità, il consigliere della comunità, il consigliere della comunità, non vi è una realità di riconoscimento su quello che è la proclamazione del consigliere della comunità, se ne avrebbe fatto la vostra cosa, anzi, per me è una cosa cosa, ma non per me, per me, è per gli altri che non hanno lo santo, e per me è un'interno della comunità. Io chiedo, se in realtà, la proclamazione di qua avvenire, da un'interno di cui, signor Lecce, mi ripeto, l'atto amministrativo della proposta di diritto di quella votazione, c'è stato di promotto, franzo, e nella successiva, quando il collega scadiva invece la fermazione su una mia persona, su un discorso che lui era cosciente, e era corrente che con quella votazione il collega Giancarlino interveniva come Presidente del Consiglio, che non l'ha avversato in quel momento, mi sto trasmamente anche usando la votazione di questo posto del possotto. Completely? Ma tecnicamente? Non doveva? Non ovvio. Lo chevi è stato fatto? Lo cheve vi?!? No. Non. Ma tecnici siamo? Aài, io sono i rivoli! No! Io ce n'ho disorderso! Cos'altro dipendete? Ricordate, probabilmente è ancora questa cosa. Lo! loop! Ho inventato? D'amore nel suo sterore! No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.